Un pool di esperti per far rinascere la pineta voluto dal sindaco di Pescara Carlo Masci dopo l'incendio devastante che ha distrutto parte della riserva d'Annunziana. Tra questi l'ex direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo Dario Febbo. L'incontro di ieri pomeriggio è stato un incontro preliminare. Bisogna entrare in pineta fra un po' di tempo, vedere i reali danni che sono stati causati dall'incendio e su quei danni, su quella situazione, costruire un percorso di rinascita, di ricostruzione della pineta. Ma quanto tempo ci vorrà per far rinascere quel tratto di pineta? Per i pini ci vogliono 25-30 anni, però il pino dall'Eppo c'è una grande resilienza anche in termini di semi. Quindi l'incendio avrà fatto sicuramente aprire i coni, le pigne dei pini e sono saltati fuori i semi che ridaranno nuove piantine. Però bisogna aspettare da la natura al suo tempo. Per quanto invece riguarda le latifoglie, cioè gli alberi con foglie larghe, diciamo così, c'è una maggiore capacità di resilienza anche dagli alberi percorsi dal fuoco, perché hanno ricaccia alla base, quindi bisogna vedere tutte queste cose e soprattutto bisogna vederlo tranquillamente e con la partecipazione di tutti, perché la pineta è di tutti. Io penso che si assaggio in questo momento fermarsi un attimino, far decantare le cose, fare questo sopralluogo congiunto con tutti gli altri esperti e poi valutare se ci sono alberi da tagliare, se qualcuno può essere risparmiato, se più di qualcuno può essere risparmiato, eccetera. Com'è possibile difendere una riserva all'interno di una città? Fare una gestione attiva. Ci vuole il responsabile che sia tutti i giorni lì e praticamente gestirlo in maniera attiva, quotidiana e nei mesi estivi in modo particolare dobbiamo sorvegliare a che non si abbiano appunto incendi, se non siamo in principi di incendio, perché siamo nel Mediterraneo, ci sono i pini che bruciano, non da soli. C'è il riscaldamento climatico, ci sono i cambiamenti climatici che sono amici del fuoco. Il sindaco ha parlato anche di corsi per i cittadini, per i residenti della zona su come gestire gli incendi. Sì, molto positivo, nel senso che informare e educare alla conservazione è una cosa molto positiva. Poi la cosa più bella sarebbe, come per tutte le aree protette, parchi e riserve naturali che siano, che la gente diventi custodi delle aree naturali protette e dei parchi, perché lo sente suo. Poi la pineta, come sapete, è un tratto identitario della città di Pescara, come il fiume, come il mare, come D'Annunzia, come Flaiano. E allora bisogna assolutamente affezionare la gente alla pineta, in questo caso, come in generale, in tutta Italia, in tutte le aree protette, perché sono di tutti e sono per il bene di tutti.